Il governo Meloni Aperto ha spalancato le porte dei consultori pubblici alle cosiddette associazioni provita, che io definisco no choice, una forzatura ideologica e legislativa che ha inserito nelle pieghe del decreto PNRR una norma che permette alle associazioni anti-abortiste di entrare nei consultori, una forzatura che peraltro ci è valsa anche un richiamo da Bruxelles. Voglio ricordare che in Italia oggi non esiste un'emergenza IVG, i dati infatti raccontano una storia ben diversa, cioè che negli ultimi 40 anni si è verificata una flessione di circa il 70% delle interruzioni volontarie di gravidanza. Con questa interpellanza vogliamo conoscere se e come la Giunta a Quaroli applicherà una norma che a nostro avviso servirà solo a limitare un diritto delle donne previsto e garantito dalla legge. Non ci stancheremo mai di affermare che il sostegno alla natalità, fondamentale nella situazione di criticità demografica che il nostro Paese sta vivendo, non si attua comprimendo la libertà della scelta della donna, ma piuttosto mettendo in campo in modo diffuso e strutturale risorse per sostenerne la genitorialità. Ho già detto in quest'Aula, per quanto riguarda l'Assessorato alla Sanità e la Giunta regionale, che quella legge fu sottoposta a un referendum abrogativo, da un lato da chi voleva eliminare la legge 194 e dall'altra parte di chi voleva allargarne l'ambito di applicazione. Il corpo elettorale nel nostro Paese, il popolo, decise di convalidare quella legge e quindi noi dobbiamo dare attuazione a quella legge garantendo l'abeas corpus, il diritto alle donne di scegliere in materia. Devo dire che a seguito dell'approvazione di questa legge sono pervenute in Regione alcune richieste di accesso in queste strutture. Gli uffici sono stati demandati di avviare una procedura a riguardo una procedura. Devo anche aggiungere che per valutare meglio e ponderare meglio queste richieste, nell'Agenzia regionale sanitaria, con decreto numero 45 del 28 novembre 2023, è stato istituito un apposito comitato di percorso nazi da regionale composto naturalmente da dirigenti e da qualificate professionalità del settore. Devo quindi dire, concludendo questo mio intervento, che c'è la massima sensibilità per garantire naturalmente a tutte le donne la massima fruibilità della legge 194, perché la ritengo naturalmente una legge, ripeto, sottoposta al vaglio non solo del Parlamento, ma anche sottoposta al referendum del corpo elettorale, quindi dobbiamo prendere atto che la volontà del popolo è quella di dare piena applicazione alla legge 194 e penso che se la selezione dei soggetti che potranno andare a integrare le commissioni nei consultori con persone di qualificata esperienza nel settore, io credo che possiamo fare anche un passo in avanti senza pregiudizi ideologici, senza muri, senza stecchiati. Sono profondamente indignata, disgustata da quello che lei ha detto, ma di certo non posso dirmi meravigliata, perché d'altronde non avete mai nascosto quelle che erano le vostre idee, l'avete fatto peraltro con una proposta di legge e di riforme dei consultori che addirittura ha anticipato questa abominevole proposta che ha fatto il vostro governo. Quella proposta di legge spalancava di fatto le porte ai consultori a queste associazioni, dava loro la possibilità di poter utilizzare gratuitamente attrezzatura pubblica. Sappiamo bene tutti che la vostra giunta è sempre andata a braccetto e ha strizzato l'occhio ai movimenti antiabortisti e avete sempre realizzato una politica conservatrice a marcia indietro sui diritti acquisiti dalle donne in anni di contestazioni e battaglie delle associazioni femministe. Oggi lei ci ha confermato che la vostra filiera, pur di fare propaganda becera sul corpo delle donne, è disposto a tutto, collocando così l'Italia e le marche fuori dal perimetro di difesa dei diritti, sancito anche recentemente dall'Unione Europea. Favorire entità private che potrebbero influenzare, stigmatizzare la libera scelta delle donne rappresenta quindi ed evidentemente una limitazione del loro diritto all'autodeterminazione.